C'è un aereo in viaggio sull'Atlantico e nell'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa e un suo giovane assistente. A un certo momento i piloti si accolgono che per un errore tragico è stato riempito solo un serbatoio. Allora, da i paracaduti, Joe Biden afferre il primo e dice questo tocca a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente. Vladimir Putin prende l'altro e dice questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente. Silvio Berlusconi si va avanti e dice questo spetta a me perché io sono, lo sanno tutti, il politico più intelligente del mondo. E l'assistente guarda i Papa e gli dice ecco santità il suo paracadute. No grazie caro, guarda io sono vecchio, ho vissuto una vita lunga e felice, mettitelo tu. No ma guardi che ne sono rimasti due. E come mai? Eh perché l'uomo più intelligente del mondo, il politico più intelligente del mondo si è buttato col mio zainetto. Grazie.